Grazie a tutti Tommy, forza, forza lì, dai Biba, dai Biba a attaccare, dai Dai, veloce, giocala, su, Biagio Vieni, vieni, entra, entra Pucci, entra Pucci Va bene, va bene, mettiti bene, vieni, vieni basso, quando lo avanza, avanzi anche tu Occhio, occhio, macchie, stop Biba, Biba, calma Dai, dai Marti, dai Marti che è lì, è buona, dai Dai, vai, 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 la di testa lì Ma lo zoom ce l'hai? Monica, lo zoom c'è? Allora niente, niente, allora vai Meno male è stato rapido Fiedi Ha avuto una bella veramente Bravo Lunga Faz lo bordo Non lascia lì di non mai Sai libero, bravo Infatti Bravo Vai dentro ancora bella cofri lale cofri torna Iuri guarda la partita non dica nulla Vicky Iuri vai a capire ma non vado a capire ma non vado a capire ma non vado a capire non vado a capire vai a capire che cosa è bella peccato vai va bene va bene va bene uguale uguale riparti, riparti 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 metti 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 buone non hai paura metti bello 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 tirato bene l'esterno si siamo a 2 minuto e 50 no sta andando indietro sarà cosa? vai è ora f*** via bravo hai fatto male bravo alzati iuri alzati forza va a catturare no 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 arancia 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 f*** vede 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 somma ve vede 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 credo di si ripresi tutte e due c'ho un minuto finisco tra un minuto giovane 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 c'è qualità via 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 io ho preso il video adesso l'ho preso un quarto portagli un po' d'acqua un po' d'acqua un po' d'acqua vai noi non smaccherebbe vai ci siamo 25 giorni che è un po' di rinforzamento freddo vedi 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 Dai Tommy, forza, forza lì, dai Biba, dai Biba attaccare, dai Dai, veloce giocala, su Biagio Vieni, vieni, entra, entra Pucci, entra Pucci Va bene, va bene, mettiti bene, vieni, vieni basso Vieni basso, quando lo avanza, avanzi anche tu Occhio, occhio Matti, eh, stop Biba, Biba, calma Dai, dai Matti, dai Matti che è lì, è buona, dai Dai, vai, 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 vai di testa lì Ma lo zoom ce l'hai? Monica, lo zoom c'è? Allora, niente, niente, allora, vai Meno male è stato rapido, Piedi Vai dentro ancora? bella cofri la ale cofri torna Iuri guarda la battita ehi ma il titolo ehi ma il titolo ehi ma il titolo ehi ma il titolo io vedi 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 guarda asciugna vedi 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 vai Uri si peccato vai vabbene vabbene uguale ok nei bisogna riscendere giù bisogna riscendere giù bisogna riscendere giù vai unì grande Samir ma com'è bella rifarti rifarti metti 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 vai unì vai unì bello bello tirato bene l'esterno stiamo a 2 minuto e 50 2 minuto sta andando indietro cosa hai fatto male? bravo bravo forza Petri vai che vieni stia cito 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 domestic stia stia cito stia stia cito stia cito stia stia cito stia hai visto li rilasciati da soli eh? ripresi tutti e due c'ho un minuto finisco tra un minuto giovane 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 c'è qualità via 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 oi oi l'ha presa nel video al vidro portagli un po' d'acqua un po' d'acqua ahi no si mancherebbe due e anche mezzo vai ci siamo 25 secondi 20 secondi sono una un po' d'acqua qui Grazie a tutti